L'emergenza rifiuti a Foggia non è responsabilità dell'Amiun Puglia. E' la replica, dopo giorni di criticità che si registrano in città per quanto riguarda la raccolta rifiuti, che arriva direttamente dall'azienda dei rifiuti che chiarisce come la situazione emergenziale con i cassonetti stracolmi e l'immondizia per strada addebitati ad Amium Puglia, supponendo l'incapacità dell'azienda pubblica a svolgere con regolarità il servizio che le è stato affidato, sono indipendenti dalla volontà di Amium e che anzi l'azienda è costretta a subire. L'impossibilità di Amium a procedere con regolarità e secondo la programmazione alla raccolta dei rifiuti nella città di Foggia dipende, dicono da Amium, sostanzialmente dai continui rallentamenti e dalla discontinuità delle operazioni di conferimento presso l'impianto di valorizzazione energetica della frazione secca individuato dalle autorità competenti. Questa circostanza determina il raggiungimento della capacità autorizzativa dell'impianto di Foggia gestito da Amium, rendendo così impossibile l'accesso di ulteriori rifiuti sia del comune di Foggia che degli altri comuni della Capitanata. Le difficoltà di conferire presso l'impianto di trattamento rifiuti raccolti in città significa anche un blocco totale o parziale a seconda del momento della raccolta e dello svuotamento dei cassonetti, visto che i mezzi impiegati rimangono spesso pieni in attesa di scaricare e continuano nella nota stampa da Amium. La situazione è stata sottoposta in diverse occasioni all'attenzione degli organi preposti alla programmazione dei flussi che sono riusciti a tamponare la situazione con soluzioni emergenziali e comunque temporanee. In questi giorni i problemi dell'impianto di valorizzazione energetica della frazione secca di Manfredonia hanno poi determinato un blocco totale dell'impianto di Foggia gestito da Amium e quindi enormi ripercussioni si sono riversate sulla raccolta in città. Nonostante Amium abbia posto in essere ogni strategia per impedire o limitare i disagi per i cittadini, dicono, cercando di garantire la raccolta sia della differenziata che dell'indifferenziata, si registrano comunque situazioni molto critiche per le quali si è al lavoro per risolverle. Intanto la collaborazione con i soci e la regione, nonché con le prefetture e tutti i soggetti competenti nella gestione dei rifiuti starebbe portando soluzioni temporanee tali da arginare l'emergenza.